Ad agosto il focus, per te, è sulle relazioni. A prescindere da tutto quello che orbita attorno a te saranno i tuoi rapporti a richiedere la tua attenzione. A dare il «la» sarà la luna nuova e il leone di giorno 4, una fase in cui sarà importante costruire una versione più autentica di te stesso nei tuoi rapporti. Ma per poter creare relazioni più autentiche e soddisfacenti, dovrai prima capire quali sono quei blocchi o quei dubbi che non ti consentono di esprimere la versione migliore di te. In questo processo di analisi vorrai riflettere sui tuoi sentimenti, ma non sarà un percorso in solitaria. Resta in ascolto intorno al 8 del mese, quando Mercurio retrogrado sarà in congiunzione a Venere, un transito che potrebbe spingerti ad affrontare una conversazione a lungo rimandata con una persona a cui tieni, e ad esprimere tutte quelle cose che ti sei tenuto dentro. Dopo giorno 16, Mercurio passerà in leone e dovrai scoprire l'importanza dell'ascolto. A causa della quadratura del pianeta con Urano, potrebbero riemergere alcune tensioni che vanno però chiarite, risolte con atteggiamento aperto e disponibile. Inutile perdersi in reazioni eccessive per cose di poco conto, piuttosto cerca di bypassare ciò su cui non vale la pena impuntarsi e prova a scegliere una valvola di sfogo con cui scaricare le tensioni. A tuo favore rimangono Marte e Giove in gemelli, un invito ad abbracciare il tuo lato simpatico, estroso, brillante, un po' fuori dalle righe in cui non mancherà la battuta pronta. Ma in certi momenti potresti avere la sensazione che alcune cose ti sfuggano di mano. La quadratura di Venere con Marte, a metà mese, crea qualche complicazione in amore. Sarà impossibile prendere le cose alla leggera, anche volendo, perché Venere in Vergine, e nella tua ottava casa, quella della sessualità, intimità, cose nascoste, cerca un tipo di coinvolgimento ed intensità che potrebbe farti un po' paura. Venere sarà in opposizione a Saturno e chiederà delle riposte, delle certezze, di mettere logica e chiarezza in un momento di confusione. Con la luna piena in acquario di giorno 19, dovrai cambiare prospettiva e abbracciate la spontaneità, prova cose nuove e lascia che gli altri ti vedano per chi sei. A fine mese con la fine del retrogrado di Mercurio, scioglierai dubbi e resistenze e saprai prendere le decisioni giuste. Chiarendo a te stesso che tipo di relazione cerchi e cosa sei in grado di dare, potrai creare il rapporto che meglio funziona per te, e se la persona che hai incontrato è quella giusta, la tua relazione si alzerà di livello. A livello fisico, la faccenda del mettersi in forma proprio non ti piace. Non ti sconfinferà l'idea e vorresti che la stagione calda passasse presto. Ma non tanto per la prova costume ti dovevi mettere in forma quanto per te stesso ha. Se ci sono situazioni complesse, poco chiare, legate all'aspetto quotidiano, cerca di non andare troppo sui pensieri e resta assolutamente sul pratico. Benissimo fare sport in acqua. Pensa sul lungo periodo, pensa in termini di benessere delle articolazioni e salute della cartilagine, delle ossa, degli organi interni. In questo modo andrai a prenderti cura davvero di quel che senti come importante e come necessario per evolverti e andare avanti nel mondo. Benissimo fare stretching per mantenere la salute dei muscoli. A livello spirituale, puoi fidarti della tua capacità di soppesare gli eventi e le situazioni, di ponderare tutto e renderlo poi fattibile su un piano concreto, ti aiuta tanto uno spiccatissimo senso dell'ironia. In amore non chiedere troppo, pensa anche a quello che dai. Sul lavoro e tra colleghi ci sono aspetti che vanno risolti, non c'è chiarezza nella tua vita e nel rapporto con gli altri, in quest'analisi centra il tuo rapporto con il denaro e con le risorse. Devi fare i conti con la realtà e forse anche con impegni familiari che prima non avevi. La sensazione di avere le mani legate sta diventando una fonte di stress e ansia. Semplicemente, intanto, come primo fattore, prova a spendere di meno o comunque a tenere un blocco contabile delle entrate e delle uscite.